Perfetto ragazzi, bentornati qua sul mio canale Oggi siamo su qualcosa che vi avevo promesso di farlo Cioè da Lollocraft Un po' laggante come sempre Comunque c'è un problema perché di solito almeno lagga Minecraft Un serpente, aspettatevi un attimo il coso Ok no ragazzi, ok Allora, questa qua Abbiamo un po' di mod che ve le faccio vedere Se no, si Ok Allora qui c'è il classico coso con tutti gli oggetti nel mod Allora le mod sono queste Ve le faccio vedere Sono queste qui Questa Lasciate stare Minecraft sono tutte queste Ok? Tutte queste Tanne questo Minecraft che diventa normale E quindi inizia così la Lollocraft Picchiando i maiali No, allora Là c'è un cinghiale? Cosa cavolo è? C'è un cinghiale? Sì, è un cinghiale incastrato Tra le Mica Mi fa D'alma Cinghiale Cioè La stessa vita di un maiali Però Comunque Allora Questa serie la dovevo fare La voglio fare Anzi con Lucchino game Ma perché Spago così tanto Ma perché Mica Le mod sono così Pesanti Scusa Non ero mica Così pesanti Vabbè Non mi ricordo Che erano per niente Pesanti Comunque Allora Aspetta un attimo E Te lo so Ma sempre sto lag C'è ragazzi Sempre sto lag Come mai Sulle mie serie C'è sempre Del lag Comunque Craftiamoci La crafting table Che Mi piace tanto Ok Allora Banco di prova O per me Ci sono troppi mob Adesso In giro E ho visto Un coso strano Di là Un maiale Col cappello E lo voglio ammazzare Per avere Quello Il cappello Andiamo qui Dove Sanno Le volpi Che per me Poi massacreranno I maiali No Quelli sono I lupi Vabbè Ok Allora Facciamoci due Bastancini Mettiamo Crafting table E ci craftiamo Subito Una spada Una spada E si Perché si Ok La spada Ok Inizia la lotta Allora Ho messo Come ho già detto Un paio Di mod Che Ve l'ho Fatto vedere Qui allora Io Dovevi ammazzare Qualche maiale Ma Ci sembra Sto Ho messo pure La morfe Vedo una specie Di cesta Aperta Che ti amico No Voglio questo cappello La cesta Aperta Dai Sta crashando Di tutto Il gioco Ah no Ok Si è ripreso Mori Mori C'è male Mori male Ok Allora Ora Vedo che c'è l'amorfo Divento Buona giornata Signore Buona giornata Ok Allora Abbiamo Il corso dei cappelli E la H Ok E ci mettiamo Il cappello Chest Ora sono Un maiale Con Il cappello Adesso Tornò a me stesso Ok 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 Oh my god Oh my god Bug supreme E Mori Mori male Ho shotato pure Ok Allora Ma se io picchio la volpe Si incazza Cioè Gli occhi Sembrano molti incazzosi Quindi Levate Levate Dov'è? Eh ma Mi sfugge Ma perché Si bugga Così tanto Ok Che lascio stare Il maiale Cerco Di ammazzare Quella pecora Che ho visto Di lontananza Perché Si bugga Così tanto Però Non dovrebbe fare Sì Non lo so Non lo so ragazzi Perché Lo fa Perché Perché lo fai Perché lo fai Peccorina Del cavolo Dammi Tutta la tua lana Lo volevo diventare Che diamine Diamine Vedo Perché Perché Lo vedo La perista Cesta Magica Me l'ha droppata la lana Che cacca Che è Che figo Che figo Però Non me l'ha droppata Ah no Ok L'ho vista Spero Spero Pecorine 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 Ok Lava Sento lava Un elefante Un elefante Mura Ok Questa piccola in uno strano cappello che rischiamo a vedere ero si capisce e misto cappello tipo la bomba nucleare figo figo dammelo allo boi ok allora iniziamo dovevo iniziare a prendere la 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 perchè lagga così e poi non è che c'è tantissime mod sono 24 ci può cadere e poi perchè sto tipo volando vabbè spiegatemi il senso di questo no pollo fiero il pollo no aspetta 4 4 volete aspettata aspettato 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 tutto 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 tanto il live aspetta matto pesce non si capisce niente niente non 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 un non 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 mi fa più la stessa mancazione dammi il corso del morph ok col pollo possiamo planare ok mi trasformo in me stesso io ok adesso robot eh si però mi vengono addosso ste cose dammi il video è più laggante della storia perchè è acceso questo ok mettiamoci la bomba nucleare una tnt nucleare troppo che una specie ok e abbiamo il sole in faccia che cosa sono quei cosi aspe vi do gli strani cosa sono cosa sono 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 strani sono ma che sono alberi sono alberi sono strani sono alberi mi attaccano posso se mi attaccano sono strani ste roba lento che strano no è pacifico pacifico mi sa che mi attacca come il golem qua c'è un coniglio un bagno delle anatre conigli anatre orsi vedo ok ok inizia ah non la gala dobbiamo prendere del legno da stia cos'è quello una strano un cavallo mi sa cosa sono questi picciò aspe no che sono i tacchini un tacchini i tacchini si i tacchini sono mi sa che le volpi attaccano i tacchini comunque che mi guardi a me che mi guardi che mi guardi mi sa che stanno morendo infatti ok boh boh video molto lagante modo molto lagante tutto molto lagante non lo so perché mi lacca così tanto e si volevo iniziare a costruire ma scusate se un bug immenso scusate perché 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 ci dovrebbe essere tutto questo bug allora mi sto un buon nello perché c'è questo bug qua immenso non so che fa però vabbè video più corto della storia non lo voglio fare così corto sto comunque mi sa che se vabbè tutto non troppo comunque ragazzi per questo video molto lagante è tutto il prossimo video faremo un'altra bad wars e beh beh aprite la cesta e bomba a tutti